Siamo cresciuti molto in Italia sia in termini di masse sia in termini di erogazione del credito nei confronti delle piccole e medie imprese. Siamo arrivati in Italia con un duplice obiettivo. Da una parte quello di gestire il risparmio privato della clientela private italiana ed abbiamo primari accordi con primarie realtà private banche italiane. Un'altra categoria di business per noi fondamentale è quella del private debt, ovvero siamo arrivati in Italia anche nell'essere pronti e proattivi nell'attività di erogazione e di finanziamento del credito nei confronti delle PMI, delle piccole e medie imprese italiane. Lo abbiamo fatto nel 2013 istituendo quello che è oggi il più grande fondo di private debt con circa 300 milioni di sites che ci supporta nell'attività di private debt e quindi aiuta la crescita delle piccole e medie imprese italiane e ci pone come un elemento non alternativo o competitivo ma parallelo rispetto al sistema classico bancario tradizionale. Laddove un'azienda, un'azienda di piccole e medie imprezioni ha bisogno di ulteriore credito al di là di quello che è già ottenuto dal mondo bancario tradizionale per espandere il proprio book di business piuttosto che per crescere oltre i confini domestici o per far crescere la propria azienda si rivolge anche a noi e dopo un processo di due diligence molto snello, molto venolce noi possiamo decidere anche di erogare tramite la nostra forma di finanziamento private debt l'azienda di cui ci occupiamo. Allora, noi per il futuro è il motivo per cui oggi abbiamo convocato questa conferenza stampa. Io come country manager in Italia ma soprattutto il mio amministratore delegato che poi è il fondatore di George Mjudnic è stato uno dei primi a credere in questo paese quando nel 2011 e nel 2012 la situazione economica italiana era peggiore rispetto a quella attuale investì in questo paese creando il primo fondo di erogazione di credito di private debt in Italia. Quindi per noi l'Italia continua ad essere un polo di attrazione fondamentale per la crescita del business crediamo tantissimo nel settore manifatturiero, crediamo tantissimo nelle piccole e medie imprese e abbiamo una fiducia positiva sulla crescita del settore e soprattutto sugli investimenti nei confronti delle PMI italiane.